Il campionato, secondo me, il girone di ritorno è un campionato un po' diverso. Sì, è vero, stiamo subendo qualche gol di troppo, però non ci dobbiamo dimenticare che siamo sempre comunque la prima difesa del campionato. Questo che hai detto tu è un motivo in più per mettersi ancora più sotto, per stare ancora più concentrati. La fase difensiva non la fanno solo i quattro difensori e il portiere, la fanno un po' tutta la squadra. Però, insomma, come ho detto prima, i risultati stanno arrivando comunque e lavoreremo settimana dopo settimana per ritrovare quell'attenzione che magari prima avevamo un po' di più. È importantissimo e soprattutto alla luce dei risultati delle nostre dirette concorrenti Verone e Livorno che hanno perso. È così, purtroppo in questo campionato vinci due partite e ti ritrovi sopra, ne perdi due e ti ritrovi tutto da capo. Per cui bisogna stare sul pezzo, stare concentrati che i risultati arriveranno. In un buon stato di forma, anche il Vicenza comunque è una squadra che dopo il mercato di gennaio è praticamente tutta nuova, come lo era la Pro Vercelli. Però questo non vuol dire niente, nel senso noi andiamo a Vicenza per portare a casa i tre punti, poi la partita dopo uguale.